salve a tutti oggi parliamo di elon musk in particolar modo del ruolo che si sta ritagliando come leader mondiale apparentemente buono e lo faremo con fausto carotenuto ciao ciao a tutti ciao allora comincerò parlando un po di questa intervista di quello che ha detto dunque ha rilasciato una lunga intervista a tucker carlson l'anchorman principale del canale fox news che è il canale di notizie della destra americana un'intervista esplosiva per molti aspetti in cui si è parlato di intelligenza artificiale di social media del sistema bancario e di elezioni masca sganciato bombe per ognuno di questi temi affrontati è stato molto chiaro nel dire cosa secondo lui non va bene ma soprattutto ha attaccato chiaramente una buona parte dell'establishment americano facendo nomi e cognomi in pratica si è schierato contro buona parte del mondo visibile che conta ha attaccato per esempio il fondatore proprietario di google re page dicendo che page vuole creare un dio artificiale e che quando lui gli avrebbe chiesto di fare qualcosa per salvaguardare il genere umano dai possibili e sostanziali pericoli derivanti dall'intelligenza artificiale page gli avrebbe dato dello specista come a dire che non importa se le macchine prenderanno il sopravvento sugli uomini l'importante è il progresso quindi musk si pone su un piano completamente diverso un po come se fosse il paladino dell'umanità ma non si è affermato qui ha attaccato anche zuckerberg dicendo che quest'ultimo ha messo 400 milioni di dollari per fare eleggere i democratici e che quindi è ovvio che la sua piattaforma sia di parte e censoria dopodiché ha attaccato open ai i creatori di chat gpt nonostante sia stato lui stesso uno dei creatori di open ai dicendo che lui l'aveva fondata sì ma come open source e no profit poi però si è girato un attimo ed è diventata esattamente come google cioè chiusa e si profit però qui vale la pena di notare che questa open ai è da qualche tempo fondamentalmente di proprietà di bill gates forse magari è questo il motivo per cui mask ce l'ha anche con loro però diciamo che nella prima intervista nella prima metà dell'intervista ha parlato malissimo di gente molto potente e lo ha fatto con un apparente non curanza troppa non curanza come se a lui le per le ripercussioni di farsi nemici del genere non interessino proprio ma non è finita qui nella seconda parte dell'intervista ha parlato di come twitter fosse presidiato dai vari servizi segreti americani e che questi avevano accesso a tutto incluse le chat private tra le persone e quando carlson gli ha chiesto come facesse lui a mandare avanti twitter nonostante nonostante abbia licenziato l'ottanta per cento del personale masca ha risposto testuali parole se non cerchi di mandare avanti un'organizzazione attivista glorificata e non ti importa di censurare il 20 per cento dello staff basta che avanza anche questa è una botta forte poi sulla politica america americana ha detto di aver votato per biden aggiungendo francamente però preferirei se mettessimo una persona normale a fare il presidente ebbe qui è riuscito a mimicarsi tutte e due che biden come mettere una persona normale noi indica giustamente ce ne siamo accorti un po tutti ma che lo dica lui è strano che non ci sono persone normali a fare il presidente degli stati uniti e poi come se non fosse soddisfatto ha detto che secondo lui il sistema bancario è a rischio di negative equity ovvero che l'ammontare del valore dei beni del sistema bancario sia minore dei loro debiti una cosa che molti non immaginano ma generalmente non viene detta dalle persone molto in vista in particolar modo non viene detta da persone che devono tanti soldi alle banche e maschera deve somme enormi alle banche insomma maschera in una singola intervista è riuscito a mettersi contro i maggiori padroni del web gli ultimi due presidenti gli stati uniti i servizi segreti americani e il sistema bancario a cui deve tutto pausto cosa c'è sotto è possibile che i soldi lo possano mettere al sicuro da tutto e tutti secondo te ma i soldi non hanno mai messo al sicuro nessuno perché i soldi tuoi ammesso che siano veramente tuoi e che tu non sia una sorta di gestore però ammesso che sono i tuoi ma t'ammazzano e te li levano cioè i soldi tuoi sono l'oggetto delle concupiscenze dei tuoi nemici più nemici c'hai più rischi c'hai di perdere questi soldi no allora la carriera di elon musk i contratti con la nasa gli spazi che gli hanno lasciato dappertutto il fiorire dell'elettrico ovunque di cui lui è il profeta lui è il profeta dell'elettrico dell'elettromagnetico l'uso dei suoi satelliti da parte degli eserci delle cose in un ambito molto forte che secondo me è molto forte nel deep state mondiale nel deep state americano quelli che contano veramente al di là e al di sopra perfino dei presidenti al di là al di sopra perfino di bill gates e company diciamo che il problema è che il vecchio modo di governare dei grandi poteri è quello dell'antico impero romano e quindi è il divide timpera noi abbiamo sempre parlato di due grandi piramidi una finto progressista che tende a guidare le persone verso il bene la sinistra mondiale i democratici americani le nostre sinistre l'unione europea come adesso e dall'altra parte una corrente conservatrice che sfrutta e tiene insieme gli egoismi e anche le voglie in fondo di libertà di tutti i tipi non so se vi ricordate la casa delle libertà no come era in italia come berusconiana in cui opponendosi a questa rigidità iper controlli delle sinistre eccetera eccetera c'era questo sketch in cui tutti ballavano sul divano e ognuno faceva quello che gli pare compreso fare la pipì sul divano per dire casa della libertà ora questo famoso sketch di cittadino masch somiglia molto alla creazione di una casa della libertà in ambito di in un ambito elettronico perché in questo ambito sembrava che ci fosse un controllo unico facebook bill gates tutti in una certa direzione e lo abbiamo visto durante il covid e durante queste cose tutti censuravano nello stesso modo tutti andavano nella stessa direzione elon musk non stava facendo nulla di particolare mugugnava ogni tanto però diciamo serve a poteri superiori a lui la creazione di un'altra piramide perché per tenere le persone o in una piramide o nell'altra e quindi mai si sapebbe potuto consentire a elon musk di fare una quello che sta cominciando a fare adesso se non avesse un potere molto forte dietro beh certo anche perché oltre che porsi come paladino del genere umano contro lì a mi ha fatto sorridere mi hanno fatto sorridere un paio di tentativi di di apparire come paladino delle persone comuni cioè uno di noi quando carson gli ha detto ma quando a un certo punto tutti i dati di twitter sono diventati tuoi musk ha risposto beh no per come la vedo io i dati appartengono alle persone beh questa è una battuta che mi ha fatto molto ridere anche se lui non l'ha intesa come battuta anche perché comunque lui ce l'ha infatti no però è proprio chiaramente mi è sembrato chiaramente un tentativo di non dico una corsa alla casa bianca perché sarebbe uno sminuirsi in qualche senso però è come se lui si stesse ponendo alla testa di un movimento si proponesse questa cosa della casa bianca sai come sono gli stati uniti lui in fondo e anche lui il burattino certi poteri intelligente abile ma non sarebbe mai riuscito a fare queste cose se non era dei grandi quindi potrebbero anche decidere che è il caso di fargli fare il presidente degli stati uniti ma non è così importante questo è che lui ha cominciato a costruire una casa delle libertà finta però perché non è che lui sta mettendo in dubbio l'intelligenza artificiale e la possibilità di controllarla lui sta dicendo loro la presentano con tanti condizionamenti la presentano che dirige le persone in un certo modo che censura io non censuro nulla ma qui c'è la sottigliezza io non voglio censurare nulla perché una cosa è dirlo una cosa è farlo ma ammettiamo che non volesse censurare nulla allora vediamo un po' quello che abbiamo visto su facebook su google no in queste piattaforme è che loro intervengono twitter intervengono dicendo e anche le nuove intelligenze artificiali no le quelle che ti rispondono come grande intelligenza artificiale se tu gli poni certe domande come hai fatto tu Enrico o svigolano oppure ti mandano solo in una certa direzione nella direzione del cosiddetto politicamente corretto classico no del dirigismo nel quale ci troviamo immersi e nel quale siamo accorti molto durante il covid cioè devi andare in quella direzione controllo delle masse però c'è una forma più sottile di controllo delle masse che è quella di dire fate un po' quello che vi pare e quindi l'intelligenza artificiale apparentemente priva di controllo apparentemente con la disposizione tutte le fonti e non solo quelle limitate date da questi poteri che gli hanno dato fino ad ora ha accesso a qualsiasi cosa e il problema è che il qualsiasi cosa che gira ammesso che sia così è la media di come sono gli esseri umani di com'è la scienza attuale sì ci sono tutti i pareri ma il 70 per cento dei i pareri sono di gente ipnotizzata e addormentata quindi sarebbe un altro modo di fare finta che siamo più liberi ma saremmo più sottilmente e ugualmente condizionati beh sai dove si vede secondo me questa cosa per esempio parlava proprio in questa intervista del fatto che su twitter a differenza di che su facebook è visto se c'è un argomento erroneo tre virgolette viene notificato dai fact checkers i fact checkers indipendenti sempre tre virgolette mettono un avvertimento sotto o censurano il video in questo caso lui diceva che lui non lo farebbe ha attivato questa cosa che si chiama notes se non pubblico direttamente mette delle note tu fai un twitter in cui dice una corbelleria e qualcuno lo può far notare e poi si può votare su queste note per vedere quella che è più votata dalle persone un po come un po come su amazon quando si vota per un prodotto no un po come la democrazia sì ecco però appunto per questo esattamente come dicevi tu su 100 commenti per quello che abbiamo visto di come ha funzionato soprattutto negli ultimi tre anni su 100 commenti è ovvio che 70 saranno aderenti a quello che viene proposto come come ideologia mainstream quindi se c'è sufficiente bombardamento su tutti gli altri media di un di una particolare opinione su un particolare avvenimento quella sarà l'opinione più gettonata e quindi non c'è bisogno che ci sia il mentana di turno se la gente stessa che si autocastra quindi diciamo invece di essere il mainstream chi controlla il mainstream che decide la linea la decidono gli ipnotizzati dal mainstream è certo è questo però tutti hanno l'impressione di essere liberi i primi dicono io sto con quelli buoni no quelli del mainstream perché mi fido perché mi per mi per iniezione mi fanno tutto quello che mi dicono no io sono il giusto gli altri dicono no ma guarda questi disgraziati ho capito che sono contro di me noi siamo liberi però liberi di che di assorbire le forme pensiero consumiste le modalità il materialismo spinto no di accettare comunque di votare o per trump o per biden cioè limitati nelle scelte pensando di essere liberi quindi così quelli che pensano di essere liberi e non lo sono e quelli che accettano di essere teleguidati ci fai una democrazia in una per cui tutti e due sono controllati sì purtroppo credo che che questa sia la questione spero che questa volta a differenza di tante altre volte in cui ci siamo dovuti ci siamo trovati a criticare personaggi molto affascinanti no nel tempo capitano quando criticavamo grillo soprattutto all'inizio le persone non volevano stare ad ascoltare perché erano molto affascinate da questa persona che diceva cose anche molto giuste, come in parte sta dicendo anche Elon Musk, per carità, apparentemente cose molto giuste, tipo la difesa dell'umanità dall'intelligenza artificiale, dopo aver parlato delle banche diceva che noi dovremmo accettare un tasso di inflazione più alto, che è giusto, quindi non alzare i tassi di interesse ma continuare a favorire le condizioni economiche di produzione, e quindi lui dice delle cose anche giuste e questo affascineranno tantissime persone, noi come al solito stiamo cercando di avvertire prima possibile che tutto va preso con un pizzico di sale. Sì, e diciamo stando fuori a guardare i lanciatori di trappole e di reti, poi puoi accettare quello che vuoi o quello che non vuoi, ma perché poi dopo tu gli dai il cuore e quando gli hai dato il cuore sei fregato, accetti anche quello che non conosci, lo accetti perché te l'ha detto quel principio di autorità esterna che si è formato, le due piramidi sono due principi di autorità esterni che vanno incontro alle tendenze differenti dell'umanità, ma per incastrarla. Ora, come se ne esce da sta storia? Se ne esce rimanendo lucidi, ma volevo a questo punto dire anche in questo dibattito che sta cominciando, manca una cosa, una cosa importante, ma questa intelligenza artificiale, è veramente così potente? Può veramente fare tutto? È così super? Questo, anche nella paura che incude Elon Musk, diciamo fermiamola perché questo ci può fare di tutto, nasconde un elemento, è come se desse all'intelligenza artificiale una superpotenza, ma questo in effetti non è così, perché è sempre un'intelligenza che fa i conti, che mette insieme i dati che trova, che non ha la fantasia, che non è capace di progettare qualcosa che ancora non esiste, può solo mettere insieme i dati sulla base dei dati che gli vengono dati. Più gliene vengono dati, più qual è il problema? Non necessariamente è in grado di valutarli e di ponderarli su delle basi superiori, basi superiori sono, l'unica vera, il bene. Quindi potrebbe veramente stabilire, ed in questo ha ragione Elon Musk e altri, che per motivi logici è meglio rifarsi dell'umanità, perché non produce abbastanza. Allora togliamogli la corrente un giorno, potrebbe anche farlo. Questo se gli esseri umani gli cedono il comando, ma nessun essere umano, penso, voglia cedere il comando. I gruppi oscuri vogliono fare finta di cedergli il comando per continuare a usare questo strumento come strumento di controllo. E quindi l'elemento qualitativo, purtroppo, c'è un elemento qualitativo positivo che noi siamo chiamati a sviluppare nella vita, non quantitativo, che è la nostra essenza, la nostra coscienza, il nostro modo di fare, il calore del nostro cuore, la nostra bontà. Attraverso quello che facciamo nella vita, questo dobbiamo sviluppare. E questo il computer, l'intelligenza artificiale, non lo può fare. Però ci sarà una parte dell'umanità che continuerà a volerlo sviluppare e quando vede che l'intelligenza artificiale o i computer gli dicono qualche cosa che va contro, non si fideranno se sono svegli. E ci dobbiamo svegliare e dire ma questo è bene o non è bene? Ogni volta, come quando il Papa, come quando parlano i politici, come quando parlano i finanziari, come facciamo adesso. Il problema è non fidarsi alla cieca. Loro ci vorranno convincere a fidarci alla cieca. Però dietro ci saranno sempre delle intelligenze oscure che sono contro la nostra intelligenza cosciente, che vuole il bene. E queste faranno finta che l'intelligenza artificiale decide delle cose, anche contro di noi o per il nostro presupposto bene. Ma saranno sempre loro, sempre quelli dell'impero romano, dell'impero francese, dell'impero spagnolo, dell'impero britannico. In fondo saranno sempre loro. Certo, poi direi anche che è difficile comprendere certi argomenti e andare alla base dei problemi e di queste spiegazioni attraverso il breve tempo che abbiamo in questi video su piattaforme come queste. Per esempio, per questo noi facciamo seminari in presenza, perché così possiamo trasmettere meglio in questi seminari. Si possono mettere in campo non solo le nozioni, ma l'interazione, che è fondamentale per la comprensione a 360 gradi di quello che stiamo facendo e di quelli che sono gli ostacoli che ci troviamo davanti. Per questo volevo dire che il prossimo settimana sarò a Roma proprio per approfondire tanti temi che trovate nei nostri video. Di argomenti importanti perché partiremo appunto dai limiti dalla materia. Parleremo di cos'è, come funziona il mondo spirituale, come funzionano e come sono composte le forze dell'ostacolo, le famose piramidi di potere di cui parliamo sempre. E poi faremo un viaggio negli ultimi 80 anni del nostro paese per vedere cos'è veramente la democrazia e come gli italiani se la sono prima conquistata e poi se la sono fatta rubare. Nella descrizione sotto il video chi è interessato troverà tutte le informazioni per partecipare appunto questo sabato 29 e domenica 30 aprile a Roma. Ma detto questo non possiamo che ribadire Pausto che non dobbiamo cadere nella fascinazione dell'ennesimo tentativo di imbrigliare la nostra attenzione alla nostra coscienza. Possiamo fare nostri alcune argomentazioni, certamente dobbiamo stare attenti all'intelligenza artificiale, esattamente come dice Elon Musk, certamente dobbiamo stare attenti al sistema bancario, certamente gli ultimi residenti degli Stati Uniti non è che siano stati il massimo dal punto di vista della presentabilità. Sì, ma nemmeno quelli di prima, quelli di prima sembravano semplicemente meglio, poi effettivamente se uno va a guardare, ora mi accuseranno di essere in destra cosa che non sono, però effettivamente se uno va a guardare il record dei Trump e il record di Obama non è paragonabile, cioè uno ha fatto molti più danni e guerre dell'altro. Sì, facendo finta di rifare il bene con un Nobel della pace. Esattamente, quindi non è detto che la presentabilità sia il metro, però bisogna dire... Dobbiamo essere il contrario. Anzi, certo c'è da dire che questo Biden è uno... beh, devo dire, da una parte è stata buona questa impresentabilità di Biden, vedere questa persona che dovrebbe essere l'uomo più potente della Terra, che spesso non è in grado di rendersi conto di dove si trova, o di cosa sta dicendo, o delle persone con cui sta parlando. Questo secondo me è stato ottimo per chi era in cerca di segnali che portassero a capire, ma forse c'è qualcosa di più di quello che mi raccontano, non trovi? Certo, certo. Eh vabbè, comunque meglio così, no? Quello che vediamo negli ultimi decenni, in modo crescente, è l'impresentabilità del potere. Mentre prima si mostrava più presentabile. Io penso sempre che questo è evoluto dal mondo spirituale buono, per dirci sveglia ragazzi, questi, ora ve li faccio vedere come sono veramente, perché questi sono impresentabili fuori e impresentabili dentro. Per troppi anni avete avuto i presentabili fuori che erano impresentabili dentro e non ve ne accorgevate. Ce li fanno vedere, ci hanno fatto vedere i virologi, ci hanno fatto vedere i vari politici anche nostri, insomma ci hanno fatto vedere la miserrima figura dell'elevato, come si chiama adesso quel poveraccio di Grillo. Da solo si chiama l'elevato. Non la sapevo, si chiama l'elevato da solo? Sì, io sono l'elevato. Forse è per dire che l'hanno levato, però ci ha messo l'elevato davanti. Va bene, su questa nota comica penso che possiamo salutare tutti e ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando nuovamente, chi vuole venire sarò a Roma questo fine settimana. Grazie a tutti.